Però abbiamo anche delle difficoltà strettamente legate anche al nostro lavoro. Qua la radio non esiste, la televisione non esiste, i giornali, per fortuna c'è ancora qualcuno che esprime qualcosa di decente. E lo so, sono però... Quindi questo vuol dire che a noi i mezzi di comunicazione di massa non abbiamo accesso. Ecco perché noi cerchiamo i casi da fare in modo indipendente. Io ho preso lo strumento a chiodo per aiutare la diffusione della musica sua di fondazione. E queste sono le dissonanze che ho da questa città. Se noi, come giustamente lo so, lui dice di non essere contrario ai miei melodici. Io purtroppo ho anche avuto esperienze personali, quando non si chiamavano ancora neomelodici, ma si parlava della galleria, dei famosi guardascioni con le agende sotto il braccio. E noi abbiamo quel tipo di... tu la definisci cultura, quel tipo di produzione, perché quello è una vera produzione, anche se c'ha soldi che bussano, che sono sporti, che sanno anche di cadavere. A noi non fa niente, andiamo avanti perché quello poi è una trascimazione, è uno tsunami che trascina tutto. E quindi per questo non troveremo mai un alveo decente sul quale poter parlare di musica. Quindi se non c'è il pubblico, noi non avremo appinto, non potremo mai funzionare. E soprattutto l'altra dissonanza, come diceva sempre Cagli, di non avere neanche una partnership con le altre regioni, ma perché a Napoli hanno paura di venire. Io che mi sto scontrando con l'accreditamento nelle altre regioni come giornalista, ma per me è difficile, ogni volta devo far capire che io non c'entro niente con tutta la pace, non voglio fare no, in tutta quell'altra gente, io non c'entro niente. Io sono un professionista che ha conoscenza musicale perché sono da quando avevo 11 anni, quindi so di che cosa parlo. E prima di accreditarmi devo abbattere una barriera che non è un ruolo di Berlino, ma ancora di più, è proprio la fossa delle Marianne come distanza. Ma io mi devo, cioè ci credo e vado avanti. L'unica cosa che ti perdo è il dispiacere della dissonanza all'interno del settore dei musicisti e della musica. Ok, un attimo allora, prima di che io chiudo il cappelletto, Nicola che non è un suo contributo. Il mio contributo si lega alla discussione che poi è andata, diciamo, da un punto di vista di persa e di come è iniziata, e leggo amarezza, tutte quelle che sono le considerazioni da tutti gli interlocutori, musicisti, giornalisti, e questo è un dispiacere, ma naturalmente si sapeva che fosse così, tanto è che il tema, voglio dire, era proprio voluto. Leggo amarezza perché le dissonanze sempre in queste città ci siano ancora di più che altrove, e quindi in effetti questo tema ancora di più, forse, diciamo, in questo momento è giusto affrontarlo. E voglio chiudere con un augurio, un augurio che con lo sforzo delle persone che sono qui con me, che diciamo con le altre persone che lavorano per promuovere la cultura della musica, si riesca, proprio alla volta, a far sì che la città quindi possa abbracciare quella parte di persone che ama la musica e che vuol parlare di musica e vuol dire di musica, così come facciamo da volte l'anno con il disco di essi. Grazie. Ok, allora io vorrei entrare un attimo alle conclusioni, ma già Nicola mi ha anticipato abbastanza, cioè in fine punti Napoli, come diceva Carmine e come ha detto Nicola, Napoli è una città di chiaroscuri, accentuati, è una città di dissonanze, ma forse i musicisti, le anime sensibili di Napoli, forse proprio da questi chiaroscuri, forse proprio da queste dissonanze, percepiscono il palpito del cuore, percepiscono veramente la musicalità del mondo, un mondo che anche senza suonare suona lo stesso, cioè un mondo che non può fare a meno di cantare il proprio grido. E forse Napoli è una delle migliori camere dove si amplifica questo urlo dell'umanità, questa contraddizione, questo stridere di storichismi. Noi non dimentichiamo che St. Pietro Maiella è la più antica scuola di musica che ci sia stata in Italia e in Europa. E noi dobbiamo essere orgogliosi che abbiamo uno dei conservatori più antichi d'Europa. E forse questo conservatorio, anche se ormai è diventato solamente un luogo di intrattenimento, ma che comunque per noi continua a essere quel perno storico, antropologico, filosofico, sociale che ci spinga continuamente a non allontanarci mai dallo strumento musicale e dallo strumento della voce che grida al mondo la propria sofferenza. Grazie a tutti e arrivederci. Mayday, mayday! Sempre!